Ho messo in tre pietre. Allora, fammi vedere qui come possiamo fare. Quante troppo l'ha già fatto? Tantuno. La scala con due maniglie. Tu ti ricordi se si può fare? La scala singola con due maniglie. No. No. E questa è una gran cacata che hanno fatto. Se no devo fare la scalappiore perché non mi piace così. Allora, qui intanto facciamo i pali. C'è! 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 Grazie a tutti. 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 Contadino. Grazie a tutti. 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 Ehi? Grazie a tutti. Ehm... Grazie a tutti. 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 Ehm... ... ... ... ... ... ... ... ......